Si abbassa il numero dei ricoveri e si alza invece di poco quello dei positivi. Sono 184 i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore, 60 di Caltanissetta, 48 di Gela, 18 di San Cataldo. Gli altri sono pazienti distribuiti positivi negli altri paesi della provincia. E' deceduto un paziente positivo di Caltanissetta. E intanto per ciò che riguarda i contagi e soprattutto i ricoveri in ospedale, a Caltanissetta sono 11 i ricoverati in malattie infettive e non ci sono ricoverati in terapia intensiva. Sono 673 i positivi in quarantena domiciliare. 996 invece positivi quarantena domiciliare a Gela e 12 i positivi in malattie infettive. Adesso ci sono dei paesi della provincia che non hanno ricoverati e sono Acquaviva, Bonpensiere, Milena, Montedoro, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba. Quattro ricoverati sono invece pazienti provenienti da fuori provincia. In tutto sono 3.182 in tutta la provincia i positivi in quarantena domiciliare.